Avete sentito? No Ma casetta è carina, eh? La usiamo? No, così. Potrebbe essere una casetta. Per i muffi. Adesso c'è il tetto, adesso. A usare le... No, prima le... Avevamo tenuto... E' stato un laboratorio che ha voluto, in qualche modo, scoprire la natura. E scoprirla cercando di accentuare la curiosità con cui il bambino, solitamente conosce il mondo, e il senso del gioco e della scoperta. Abbiamo fatto un laboratorio in collaborazione con l'Acqua San Benedetto ed è stata una cosa molto divertente per i bimbi, perché abbiamo scoperto la natura attraverso i cinque sensi. miar penso. Sub start to rock. No. Quando irbagliato lo ripudi? No. No? Lением no E ora lo r模仲ộde. è una tecnologinale